Ciao a tutti ragazzi e bentornati comunque sul canale Resting eccoci su unissima data di Hellpoint allora siamo ecco in questa nuova area il dominio dei sommi dei e infatti è tutto dorato crepi l'avarizia e allora abbiamo scoperto che c'è un ascensore che deve essere attivato e si attiva con le gemme del caos per il momento ne ho presa soltanto una e il percorso da fare sarà sicuramente arduo non è troppo penso troppo difficile a livello di strada questo è abbastanza potabile è facile di comprendonio diciamo ma ha un sacco di di questi boss qui questi boss questi mostri che era diciamo il terzo boss che abbiamo sconfitto prima adesso ci fa da diciamo da mostro secondario cose così insomma molto easy allora torniamo da dove siamo venuti cioè di qua qui abbiamo subito un leone simba il leone bianco re della foresta leone di leone bianco il super il super il super la la l'amore per il invece quegli altri danno 1.5 mi sembra. Cioè, è fantastico. Ah, sì, certo. Ci stiamo sparando all'impazzata senza colpirci. E' meglio. Mazzano accolpati. Non mi raccoglio accolpare in questo modo. Più o meno. Oddio. Insomma. E' un'altra. Fatte la pesca, non vedo che andiamo a rigurare. Ah, no, vabbè, sto a posto. Abbiamo accoppato anche il nostro... la nostra ombra. Ci manca proprio uno. Eccoli qua. Questi sono i mostri che incontreremo in questo livello. Fantastici, eh? Bisogna stare attenti perché quando tirano quei cosette... Eh, come lo fa? Si è... si è impallato. Bene. Sì. Si è impallato. Per stare sempre molto... ... gusti qua. non non si è morto 1.650 per l'esattezza quindi voglio dire ok andiamo su vabbè si madre questo va male vabbè 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 cosa sto facendo e andiamo su bellissimo bellissimo questi danno tantissimo vabbè vabbè prima l'aggancia poi l'aggancia si si è impallato spettacolare adoro andiamo su amircare questo va malissimo niente non riesce ad agganciarmi i mostri qua questo si c'è eccolo e anche lui ce lo siamo giocato si secondo loro è ancora vivo secondo me è morto sticchito è evidente insomma i bug di questo gioco no? ma questi sono morti è vero? si è tante volte qui qui c'è una porta nascosta e infatti intanto lui non mi ha visto forse si forse no non so mi sape si che mi ha visto invece eh si mi ha visto un po' un po' trovo il manila questa va male questa va male è morto su grande Niente Materiale acciaio termico Bene, non ci interessa Qui c'è qualcosa, forse I sommi sono delle IA Solo la verità ci salverà Buona sapersi Qui apriamo qualcosa sicuramente Potenziatore sanguisura Abbiamo sblocato Qualche tipo di Ah, vabbè, sì, sì, eccola Ok, perfetto È una scorciatoia, sicuramente sì Tutto sta riguardassero Sì Perfetto, perfetto Passiamo subito di livello Senza perdere troppo tempo Ah, 7700, vabbè, ce l'abbiamo Ma per uno Ma timide E va bene Mettiamo il nostro mitraglia E andiamo a montare il gallero Cioè da qua Ok, bene Torniamo su E andiamo a vedere che cosa c'è lassù In alto Abbiamo visto che ce n'era un altro Di qui Buffoni Ah, sì Sì, sì Sì, sì Basta lo sguardo Ma la sua Sì sa che succede Che fa, che fa È pazzito ragazzi È pazzito Mi ha fatto male Ho bisogno solo di valutarlo Quando incominciano a muovere quella cosa E a darmi le botte Perché sono molto, molto, molto veloci Eh, sì C'è un po' di Quello è un mostro, signori Sì Si, si è fermato lì Ah, mirando lui Beh, bellissimo Non c'è un fuori Ok, bello Non c'è un fuori Madonna, che ansia Wow Bellissimo Qui si sale Sì Bene Ma si sale Ma vedete che c'è Qua sopra E ormai Ah, ok L'ingotto di inserio Di qua invece Che altro c'è Allora No Wow La si salta E si va dall'altra parte E poi c'è un fuori Eh Ma è da un po' Invece di là Che c'è sta C'è gigantesca ragazzi Questa stazione spaziale Bellissimo Ok 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 Andiamo a tutti Vai Vai Sì Vabbè Stavo intendo dentro Oh Qui è così Sì Vabbè No Vabbè Wow Qui è talmente tanto Buggato Che non riesco Proviamo così Magari mi dice Fortuna Non era meglio Se salivo E facevo il salto Carpiato Quanta roba c'è Ok Qui secondo me C'è un sacco De De cacciare Questa Niente Strano Però mi sembra troppo Tutto troppo tranquillo Ah vabbè No Evo Non è diverso Sì 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 Niente Non riesci a mirare I mostri Oh Su Che sei morto Cioè Mancava Uno sputo di vita Mettine Ah eccolo 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 Lo sapevo io Era telefonata Questo Sì Sì Vabbè Guardate 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 Sì Forluna Questi Così sono lenti Sì Adesso Io mi curo Ma guardate Ma guardate Andiamo Ma è saluto qua 33 Bene Abbiamo visto Abbiamo trovato Un'altra sfera del caos Questa cosa gialla Qui Adesso ve lo faccio vedere Eccola Se ce la fanno prendere Senza troppi Intoppi Sigillo del Ah Questo addirittura Sigillo del patriarca Ok Bene E' quello che va messo lì Eccolo là Perfetto Quindi Questo sicuramente Porterà di là Sì Sì Andiamo Mi risalto addosso E vabbè Stai zitto Ok Pare che stiamo andando bene Questo è per potenziare E elaborare risorse Perché sento dei rumori strani Si stanno Guardati Ma stai Dove Ammazza della O Cioè veramente Modello quanti di guerriero Rivoluzione Addirittura Che ne manca Eh ne manca però Quelli del guerrier antico Eh vabbè 7777 Ho letto bene Poro dodo Si Si E quanti sono E che c'è stata E chi è quello Si vabbè No no Io non ci vado Che sei matto Non faccio Accompa da questi Au Vedi un po' Au Non si vede niente Mamma mia Che ansia E questo l'abbiamo aperto L'ultimo Ci dovrebbe riportare No manco E niente Dove ci portiamo Un barbaratro più profondo No ma Non vedete conto Ma intanto Un po' ci dovranno andare là Sicuramente Ah Sì Ok Questa non l'avre Sì Bene signori Bene Sempre meglio Andiamo a salvare Che l'ansia Mi sta mangiando E possiamo mettere Il secondo sigillo Anzi No Allora non è Oh Vanno messi Ah eccolo qua Sigillo del patriarca usato E anche questo Lo abbiamo Messo Quindi consueto Settemila Madonna santa Ah no Settemila Eccolo qua Settemila Eccolo Non ho detto Una ghecchiata Anzi Settemila Spettacolo Ma comunque non mi bastano Per arrivare No Non ce l'ho 4.000 5 No No per niente Bene Quindi Da qua Siamo venuti Proseguiamo Adesso da là Di certo non ci torniamo Perché ci stavano tutti quei mostri Mi tocca di fare Da capo E non mi va Scusate Ah Non si Ok Andiamo a vedere Che ci racconta Quello là sotto Ma guarda che purino Andastene via così Quello si è impallato Signori Basta lo sguardo Ah comunque Ti colpiscono Ma è morto No Mi manca Nascuto Però Sì 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 Aspettiamo No Ma è morto Su via Manca uno spudo Veramente Quello si è impallato No Come divertire Alleluia Ma questo non me lo farà selezionare Perché è inesistente Perché è inesistente E infatti questo è buono Ho visto C'è la miseria Lo sapevo io che era buono Quello Ti sei impallato Spettacolare Signori La prossima volta Allora Torniamo da questo che si è impallato Sperando che funzioni Dio della coscienza esterna Possiamo solo immaginare la conoscenza di migliaia di mondi Sì Il ministero lo ha bloccato E degli lo ascolti Ora più nulla è probabile Vabbè Se lo dichi tu Io me ne vado perché Sei un po' matto Sì vabbè No Entrambi lo ho sbloccati Porca Non riuscirò mai a scopparire E andiamo Non fai niente tu No Certo Sei impallato Ti abbraccio Questa cosa E non si muove Però comunque sono deficienti Patentati Non fai niente tu E andiamo? Madre No! Ok, fuori uno Concentriamoci solo su questo Ce l'abbiamo fatta Alleluia, alleluia Io sono morto Ah, sì Questo è sempre quello che fa finta Qui c'erano due Ah, vabbè, vedi se qua C'è qualche mostro strano Perché tanto è così sempre Che ti fanno la guardia quando meno ti lo aspetti Si giro del serpente E dai, e fuori questo l'abbiamo fatto Oh, buono, qui c'è Cos'è? Guarda, guarda se non moro, qui Eh, dai, eh Well done, signori, well done Sempre meglio Si giro del serpente No, beh, allora Cioè, se non è zuppa E fa mangiato Eh, poi ne manca uno Tutto sta capendo o sta? Secondo me è stato qua Ma prima Andiamo un attimo su Vediamo un attimo che c'è qua E' un attimo C'è pure l'altra parte C'è pure l'assopra Questo mi sembra facile Oh, per un pelo No Si, vabbè L'ho mancato di dieci chilometri Ma tutto a posto Tutto a posto Non è successo niente Beh, io direi che in questo domino dei sommi, signori Scusate Il migliore per Farmare un pochino Crescere Di livello Di potenza E tutto quanto Ok Bene Questa qua Ora Cerchiamo di non fare Lo stesso errore Ah, ci sta pure la mia... No, vabbè Che rottura di scatole Voglio sparo Ciao E' scemo Spettacolare Fantastico Ora Dobbiamo vedere se qui So popparsi in alta volta Qui due Eh E' quasi probabile E' quasi probabile Qui la volta fallisce Con tutto il resto Bene E mo' andiamo da quest'altro Basta lo sguardo Ma' andiamo da quest'altro Ma' andiamo da quest'altro Ma' andiamo da quest'altro C'è C'è un Un giù Oddio Ho sempre pure che Dopo un giù C'è una oragina Sì Vabbè Scali di qua Scali di là E' tutta una scala Allora Vabbè Puoi andare Così Perché C'era anche Di sotto Tutto troppo tranquillo Eccolo là sopra E qua Non ce ne sono Stam Ecco E' una Ma' ho saltato Oh Si'è pallato ciao anche a te bisogna andare molto gaudi no no e certo io non salto no è che è la prima volta che mi hai pericolo mi sono pallato ok vamo stare su quel di qua no se già ciao stai bene lì non si sa che è successo comunque dove è andato? dove è andato? eh non sto là arrivano fino a qua secondo voi questo decido però non lo voglio provare allora andiamo su panzaiii ahah eccolo lì amico frites spara solo ci vorrebbe si vorrebbe teletrasportare ma non l'ho ancora fatto ma fammi togliere va ma se vado giù invece dove vado? non si sa niente ormai farà solo questo e che scatole ma c'è ma c'è vabbè allora io vado intanto si è bloccato si vabbè quello si è impallato lì mi si è impallato lì però se non me scalso me le tira addosso quelle cose ma sto ormai ciao che ti devo dire andiamo a vedere di qua che c'è madonna santa oh ma quante ce ne stanno? non mi ha non finiscono mai se ah 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 si si questo è dove ho visto prima madonna santa e io dove vado? qui l'ideale sarebbe cercare di accoparne uno e poi sparare a qui cosi che ti danno la possibilità di cioè che si saltano per aria no? questo ancora ci si sta cercando di trasportare in vano ma non 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 e dai che è morto su ok quindi ora abbiamo un po' di spari a disposizione si va bene poverino quello ancora che ci sta vabbè allora ora dovremo sparare lì cosicché quei cosi saltano per aria e facciamo ecco ecco che è successo a lui? per niente non ha fatto niente e sta pure fermo il mobile si che stavo a sentire bene eppure lui abbiamo accoppato aspettiamo che passa qualcosa che cazzo che cazzo che cazzo che fa quello? mi vuole sparare? come ti permetti no non è successo questo fa male sembra io addosso questo fa male va meglio dai su sei morto non rompere ferula del discepolo ferula del discepolo per questa ammazza però questo forse 65 non è male in effetti eh questo è 85 però pesa 9 vabbè andiamo avanti ah qui non vado a nessuna parte ma quindi là ando uscendo praticamente tutta sta maffrina e niente mi sembra giusto ah forse devo andare all'altra parte bene io sono venuto da qui yes ora finiamo finiamo qua qui c'è materiale cuore pulsante non me la racconto giusta aha sì me lo ricordo eh ma lancia rigo pure se salto e faccio un salto doppio carpiato moro non voglio sicuramente la vita in questo gioco è troppo preziosa ok quindi secondo me dobbiamo andare in là dove stanno quelli quindi dobbiamo scendere giù tornare indietro qui dobbiamo stare attenti che non ci sia qualcuno sì c'è ancora quello là sopra perfetto poverino ok quindi direi che qui non c'è più niente possiamo andarci dobbiamo sempre stare attenti perché potrebbe esserci qualcuno che si è rigenerato nella via di ritorno come voleva si dimostrare lì c'è ah qui c'era anche un giù che non ci abbiamo andato giù su ah no ci saranno giù vediamo a vedere questo giù dove ci porta interessante ma dove mi porta sono proprio antipatici sti cosi veramente sì che te urli adora let's go ok là ci si può rampicare so allucinare sti cosi ah si fa proprio esplodere questo non mi era mai capitata qua voglio dirlo sicuramente no perchè vabbè 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 c'è sta un altro ancora non finiscono più ok ok visto che tanto mi la ricaricata perfetto quindi e quando si va non mi guarda dove vado ho sbloccato qualche altra cosa non ho sbloccato niente oddio grazia wow ma ti so un milione io uno subito 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 vieni vieni su ciao no si bene fuori uno subito Oh 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 Bene E che ci sta quello che arriva fino a là Perchè mi fa fastidio, molto fastidio Oh, e no eh Ma stai andando Oh 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 E anche questo è morto Deve essere avuto un solo per lo sto adesso Oh 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 Ok Questo l'ho ammazzato Quindi Qua cosa va? Qua cosa va? Qua cosa va da qualche parte? Si va da qualche parte Bene Sempre tanta matura Qua Non si sa mai Chi te può capità Ma non penso che Si possano fare i salti Oh Oh In teoria Si In pratica Non mi fido Oh I I io l'ho no lo sapevo lo sapevo sono affranto sono quasi riuscito vediamo adesso questo mio ah prima c'è stata da coppare la mia ombra qua perché è la cosa più fastidiosa che c'è sta in assoluto l'ombra eccola la e poi ah sta lì andiamo ad coppare quest'ombra malefica mazzo sta lì sta lì su un altro giorno lì quindi in teoria no si può saltare da qui bene ok bene ok ragazzi abbiamo trovato il terzo ne manca uno lo scopriremo nella prossima puntata perché purtroppo la cosa è lunga molto lunga cioè diciamo che sta a livello molto lungo questo si bene ragazzi come sempre se vi è piaciuto il video ricordate di mettere un like e di iscrivervi al canale del resto ciao e alla prossima ciao ciao ciao